La mia classe preferita è Invalorant, senza alcun dubbio, gli assassini. Benvenuti amici di eSport Itapation, quest'oggi altro assassino. Abbiamo parlato di Jet, abbiamo parlato di Phoenix, grandissimo, incredibile. Che grande personaggio, ma senza alcun dubbio mi diverto tantissimo anche con Raze. Raze, amici, è un personaggio che, diciamo, è molto usato e molto apprezzato, soprattutto perché ci sono alcune abilità come botte esplosivo e pacco esplosivo che, amici, se utilizzati bene, fanno davvero una carneficina. Raze, come ben saprete, è un assassino. Come ben saprete, gli assassini sono ottimi per ammazzare tutti quelli che ci separano davanti. Sono ottimi in attacco, sono davvero degli ottimi personaggi in qualsiasi situazione. Siamo di nuovo qui nella nostra bellissima mappa con le nostre solite ambientazioni che, ragazzi, io personalmente trovo che siano perfette per spiegare le basi dei nostri amati personaggi. E prima fra tutti, amici, beh, lasciate che vi spieghi bot esplosivo. Molto, molto semplice, ma come tutte le cose molto semplici. Beh, davvero molto interessanti. Prendiamo il nostro robottino, gli diamo due botte e vediamo che davanti a noi c'è una linea. Vediamo questa specie di percorso che il robottino andrà a fare. Ed eccolo qua. Che con tutta la sua allegria, tutti i suoi colori, tutti i suoi rumori, il nostro robottino va avanti, va a sbattere e poi muore. Ma essenzialmente, ragazzi, muore così perché non ha trovato proprio niente e nessuno. In realtà questo robottino non va solo e solamente dritto. Come avete visto, quando incontra, ad esempio, una cosa solida, eccolo qua, vedete come fa? Fa una specie di rimbalzo, non importa quanti ne facciate, non importa dove andiate a rimbalzare, a meno che ovviamente non cada fuori dalla mappa, come stiamo per vedere. Eccolo là, sì, salutissimi, signore. Vedete, a parte quello, diciamo che il robottino rimbalza praticamente ovunque. Ma come vi dicevo, il robottino, sì, voi dite, ma è dritto, il nemico deve per forza trovarsi davanti a me. E me no, perché il robottino, davanti a sé, ha questa lucetta, che non è fatta essenzialmente per essere solamente carina e coccolosa questa lucetta. La vedete questa qua? È una specie di raggio davanti, una specie di radar, che una volta che aggancia il nemico, va verso il nemico e si fa esplodere. Per cui, ragazzi, capirete che quando ci troviamo, ad esempio, in una situazione del genere, il nostro robottino appena vede qualcuno in quest'angolo va e poi, ovviamente, si fa saltare in aria. Bravissimo. Vedete, questo robottino e anche questa abilità qua che ho appena lanciato sono talmente potenti per questo assassino, ragazzi, che Raze è stata già nerfata diverse volte. Ma non concentriamoci su questo, ma passiamo alla seconda abilità. Ma ora osserviamo questa abilità. Ragazzi, abilità numero due, pacco esplosivo. Pacco esplosivo, esattamente come dice il nome, è un bel pacchettino, un regalo che noi possiamo lasciare agli agenti nemici che, ad esempio, arrivano in questa direzione e chiunque passi da quella parte, boom! Ragazzi, pacco esplosivo, come il drone che abbiamo lanciato prima, botto esplosivo, sono delle tecniche davvero efficacissime. Efficacissime perché? Perché, come avete visto, il raggio, l'area di azione di questa bomba è davvero molto forte. Sono qui, a quello che potrebbero essere due o tre metri, e comunque, il colpo, anche se non subisco danno, ragazzi, io l'avrei ricevuto e avrei preso danno nonostante io fossi ancora in una, diciamo, discreta lontananza. Insomma, capite perché amo questo personaggio? Capite perché? Mettere lì, aspettare che arrivi qualcuno e poi fargli kaboom! È una delle cose più belle in assoluto? Sì, perché fate tanti danni e fate davvero tante kill. Avrete la possibilità, però, ragazzi, ve lo dico subito, di mettere solamente una bomba al tempo perché se andate a rischiacciare il tasto andate voi a decidere quando la bomba adesiva va ad attivarsi. Non è una bomba adesiva che si attiva quando passa un nemico, ma bensì ha semplicemente un timer oppure la detonazione a distanza. Tutto chiaro? Perfetto! Ma ora, la mia preferita, granate colorate. E sebbene il nome sia puccioso e carino, beh, ragazzi, non fatevi assolutamente prendere, non fatevi assolutamente dubbi sul fatto che questa tecnica sia potentissima. Avete visto come lanciata qui abbiamo preso un raggio davvero, un'area davvero enorme. Inoltre, premendo sempre E, vedete come si attivano due possibilità. la possibilità di far sbattere la nostra granata oppure la possibilità di farla cadere come un peso più importante. È una cosa che avevamo già visto come ad esempio in altri agenti come ad esempio in Phoenix, ma qui la cosa diventa ancora più interessante. E perché? Beh, sinceramente perché dovete stare molto attenti a dove mirate come avete visto e questo è il sinistro. Guardate che razza di area che abbiamo coperto. Capite perché è stata nerfata? Capite perché è così amata? Capite perché è così apprezzata e soprattutto è così demuta? Beh, perché ha delle armi, delle abilità davvero potentissime. State bene attenti però ragazzi come avete visto dalla mia vita sotto non è che siano molto user friendly e infatti questa bella granata ad aria fa davvero un quantitativo discreto di danni soprattutto se venite beccati anche dalle granate secondarie che vengono lanciate. E per ultimo perché non provare qualcosa di più grosso ancora? Perché non provare qualcosa di ancora più stupefacettamente potente? Wallah! Avete visto? No, avete visto della potenza del raggio dell'aria che è stata messa a disposizione del nostro assassino per colpire tutti quelli che gli si parano davanti? L'avete vista? No? Ve la faccio rivedere e non vi preoccupate ci finite per caso dentro? Farete davvero un gran bello il botto Ragazzi tutte le ulti sciottano senza alcun dubbio ma senza alcun dubbio se prendete nel muso un razzo della nostra Raze beh dovete essere molto lontani dovete essere fulminei e allo stesso tempo come vi ho già detto i muri si proteggono ma l'aria tende a essere abbastanza ampia e soprattutto non è che se il colpo viene sparato qui io qui sono protetto al 100% un non dico danno pieno ma soprattutto ma dipende da come siamo nascosti un po' di danno sicuramente ce lo facciamo di questo volte ragazzi non ci sono tantissime modalità esiste essenzialmente però un timer un timer che come vedete vi da quel limite di tempo per poterlo sparare il colpo il colpo lo potete sparare anche sulla luna perché l'unica cosa che succederà e che sicuramente molti di voi lo utilizzeranno è quando colpirà un nemico oppure colpirà una superficie il mio consiglio quindi qual è il nemico sta per arrivare da là non colpite il nemico potreste tranquillamente lisciarlo e allora la vostra alte sarà completamente totalmente inutile colpitele verso la colonna e come vedete riusciamo ad arrivare a coprire tutto lo specchio di questo portone e anche delle buone porzioni interne e tutto quello che ci si para davanti insomma ragazzi spero che anche per questo video sia tutto chiaro e mi raccomando se dovete colpire un nemico non colpite mai parti del cielo o puntate a provare proprio lui ma magari puntate sotto i vostri piedi sicuramente come avete visto un bel 50 di danno anche se non lo prendete in pieno e comunque davvero molto davvero tanto glielo farete e quindi porterete davvero molto vantaggio alla vostra squadra che poi con una semplice pistolettata finirà il nemico e anche per quest'oggi ragazzi è tutto e noi vi salutiamo che dolores